Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Vi voglio presentare Vengeance, un gioco da tavolo della Mighty Boards che mi hanno inviato appunto Vengeance e Post Human Saga, gioco che ho fatto vedere in una delle ultime domeniche ludiche e che vi porterò prossimamente appunto come cosa ne penso e spero di farci di gameplay anche quanto prima. Vengeance è un gioco che è un Kickstarter che avevo seguito tempo fa e poi mi sono perso per una cosa o per un'altra, anche perché iniziano ad uscire tipo 10 Kickstarter al mese. Quindi anche a farli tutti è impossibile ma proprio me l'ero perso ed è un gioco molto bello che mi aveva attirato molto molto da vicino perché è un gioco fortemente ispirato a film come Old Boy o a videogiochi come Hotline Miami. Voi siete una persona a cui hanno fatto del male, vi hanno torturato, vi hanno fatto qualcosa di sbagliato contro ovviamente e voi volete questa gang, questi sicari li volete morti, loro tutti quanti compreso anche il loro boss e quindi vi dovete intrufolare nel palazzo o nel luogo dove sono nascosti e dove si radunano e ammazzarli tutti quanti. Ed avrete altri giocatori per quanto non è un gioco competitivo e nemmeno cooperativo, ognuno fa le sue azioni però avrete altri giocatori che magari avranno il vostro stesso odio per il vostro stesso clan e quindi potrebbero ucciderli prima di voi e rubarvi la giusta vendetta. Punti che non avrete a fine partita e punto perderete. Ma ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Vengeance, come diceva appunto a cura della Mighty Boards è un gioco da 2 a 4 giocatori dai 14 anni in su, sì le regole sono un po' particolari più che altro perché è molto violento come gioco e il tempo si va sui 30 minuti a giocatore e secondo me forse anche qualcosina di più come Tempistic ed è un gioco, ve l'ho detto, di miniature 80 nella scatola base del gioco 80 miniature ai livelli veramente dei giochi dell'Akmon o di Kickstarter più grandi come Deep Madness pieno zeppo di miniature dettagliate, fatte veramente da paura ci sono tutti quanti i vostri eroi, tra virgolette ci sono tutti quanti i boss ogni boss ha le loro bande sembra anche un po' di gioco di Gotham City ve lo di Batman che vi fece vedere tempo fa ed è veramente una figata assurda perché si gioca programmando mossa dopo mossa come in Hotline Miami nel videogioco quando entrate in un posto dovete vedere dove sono quelle guardie quindi magari sapete che già appena aprite la porta dovete sparare per ucciderle poi magari vi arriverà il cane in corpo a corpo e lo dovete ammazzare con un corpo di arma da corpo a corpo oppure anche una clava, un pugnale, cose del genere all'arma bianca ed è un gioco dove devi calcolare tutte quante le tue mossi e riuscire ad avere la tua giusta vendetta contro chi vi ha fatto del male perché sennò perderete la partita vi faccio vedere, vi do un pochino un'idea di come funziona però prima di tutto, unboxing confezione e disegno è molto semplice però è bello ricorda la classica scena del corridoio di Oldboy quando lui da solo armato e a parte armata all'inizio ha mani nude poi prende un martello è incazzato nero che deve fronteggiare un clan intero e i clan vanno dalla classica gang di quartiere tipo afroamericani e cose del genere oppure la yakuza o triade comunque cinese qualcosa del genere poi vediamo la mafia italiana quindi ci sono ce n'è veramente per tutti i gusti e la scatola ragazzi a parte grande a parte immensa è piena zeppa di roba apriamo regolamento che vi devo dire la verità anche questo forse 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 non spiegato eccellentemente perché comunque a me poi è una cosa personale non mi piace vedere i numeri e poi doverli andare a ricercare sulla mappa preferisco sempre regola e sotto immagine regola e sotto immagine perché è un po' dispersivo mettiamola così e ho dovuto leggerlo un po' di volte ragazzi non è complicato è un po' complesso perché comunque è un tipo di gioco che onestamente non avevo mai visto come regole quindi c'è un po' di entrarci nell'ottica non ci ho trovato niente di giochi che avessi già provato fino a questo momento e quindi ho dovuto un attimino farci appunto l'occhio però è molto 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 veloce e snello questo ve lo assicuro quick start che è una guida anzi una vera e propria avventura con le sue regole che ci dice come prima partita prima giocata fate questa qui non ci sono tutte le regole del gioco ma ci sono quelle essenziali per fare la prima partita e poi imparare piano piano una figata questa l'ho adorata da morire la scatola già divisa con gli inserti che vedete dentro e ci spiega come mettere a posto la roba questa è una figata assurda perché perlomeno per rimetterla a posto e tirarla fuori è organizzata molto bene planche dei personaggi che potete utilizzare tutti molto differenti lei addirittura Kaja è uno dei miei preferiti perché è da corpo a corpo e lei come vedete quando si sposta può convertire un'azione che è l'abilità di veterano può convertire un'azione di sprint con un attacco praticamente mentre corre ti sventra con una katana bellissimo e poi vabbè tutti i token planche di gioco tutte messe qui ce n'è veramente tantissime ed è bello perché la mappa che andate a comporre sono i vari covi delle bande che poi andate a fronteggiare quindi vedete una specie di ristorante vi immaginate la classica strage col boss mafioso al ristorante 5 stelle e voi che dovete entrare ucciderle e vedete che c'è sempre la location del boss e le location dei vari sgherri che trovate divisi per colori ovviamente nero è quello di base rosso e giallo sono quelli più forti e questo è il punto di partenza dove entra il nostro eroe dadi che sono quelli da attirare all'inizio a disponibilità di pool per tutti quanti i giocatori basettine colorate dove mettere le miniature anche per riconoscerle per diversificarle quello è un elite quello è una cosa quello è un altro mazzi di carte con le caratteristiche dei boss degli sgherri e poi carte equipaggiamento e carte azione montage che vi permettono di fare tutte quante le azioni del gioco altre basette colorate sempre per lo stesso motivo come quest'altra per dividere boss da personaggi e da ovviamente sgherri speciali una clessidra per la modalità con le regole a tempo cubetti per segnare soprattutto punti ferita subiti mazzi achievement e altre cose dadi attacco ovviamente queste sono proprio dadi azioni per i combattimenti e dado speciale verde che potete guadagnare e pieno zeppo ragazzi di miniature perché poi tra l'altro sono divisi personaggi e bande perché ogni banda ha le proprie miniature ad esempio quelli della yakuza sono tutti con le katane sono orientali poi ci sono i vari personaggi i vari boss ragazzi cioè guardatevi veramente quanta roba c'è qui dentro c'è un esercito di miniature allora cerchiamo di fare tutto quanto in una ripresa unica comunque quello che vedete qua giù è la fase di montaggio del turno per come gire che deve fare ogni giocatore che vi vado a descrivere i punti qui abbiamo messo dei colori comunque ogni volta che guadagnate dei punti andate avanti per il tracciato quando arrivate a 30 potete ripartire da zero ne lasciate uno in fondo e ripartite vince alla fine della partita chi ha fatto più punti le zone devono essere riempite vedete ci sono il segnalino boss col boss e tutti quanti i suoi sgherri in questo caso è la mafia il boss bellino con una scimmietta sulla spalla punto di partenza da cui entrerà il vostro personaggio e da quest'altra parte uguale ragazzi se li vedete un po' storti le dobbiamo modificare perché si vede nella scatola standosi uno sull'altro sono tutte piegate e qui mentre invece c'è una banda di motociclisti con tutti quanti i loro sgherri e il nostro personaggio non verranno mai messi mai le bande non devono essere disposte fino a che non si va a pescare la carta del boss e la carta del boss per farvi vedere questo qua giù è un mazzo dei boss ad esempio e una delle carte in cima ad esempio questo qui è il boss che ora non c'è in gioco ma comunque della yakuza lo riconoscete perché c'è sempre una coroncina e un potere vedete che lui sotto ovviamente ci dice che quanti punti ferita ha nel suo caso ne ha tre la sua abilità speciale e poi vedete anche i tipi di sgherri che lo accompagnano che ha sotto quando voi andate a disporre il boss in una zona di gioco che vedete è sempre quaggiù tratteggiata la carta deve sempre essere messa qui qui ci andrà un boss e qui un altro nella zona non ci dovete mettere niente perché dovete andare a fare fra le azioni che potete fare un'azione di sopralluogo del vostro colore ho preso rosso facendo finta che lui è giocatore col colore rosso un sopralluogo e facendo un sopralluogo potete girare la carta il giocatore che ha fatto il sopralluogo quell'altro non lo devono vedere guarda chi è il boss e la rimette lì perché almeno sa se quel boss è il suo obiettivo o meno quando arriverà il momento di entrare dentro questo covo per ammazzarli tutti quanti ovviamente rivelerà la carta boss a tutti i giocatori e verranno messi come devono essere messi il simbolo del boss è sempre quello rosso con un mirino da questa parte il sistema di montaggio del turno che si parte dal vronging del vronging che questo qui praticamente sarebbe come dire cosa vi hanno fatto le torture che vi hanno fatte sono questo bel mazzone di carte qua giù che dovrete pescare casualmente ognuno vedete ha dei punteggi al lato che vogliono dire che per ogni carta che avete dello stesso tipo quando andate a uccidere quello il bersaglio che ci ha elencato che potrebbe essere un boss o anche sgherri per la prima carta guadagnate due punti la seconda 4 la terza 5 e così via però qua giù in fondo vi dirà il tipo di danno che vi viene fatto danno che vi viene fatto anche durante appunto questa fase di vronging quindi siete stati torturati e feriti ancora prima di iniziare il gioco e comincerete meno mati comunque la fase va avanti c'è il montage nella fase di montage si vanno a tirare questi dadi bianchi per quanti ne ha il personaggio e i dadi vengono decisi quanti ne ha il personaggio da la caratteristica mind che vedete qua giù mind sono i dadi che si vanno a tirare skill sono per il combattimento corpo a corpo health ovviamente la vita quindi nel caso lui qua giù che non è ancora ferito tira 4 dadi va a tirare questi dadi si tengono i risultati si guarda cosa è uscito gli altri giocatori tirano i dadi quindi questo montage è un punto iniziale che si fa tutti insieme e poi questi dadi qui vengono assegnati uno al primo giocatore uno al secondo in senso orario e fino a che tutti quanti non riprendano il valore dei dadi che hanno tirato la fase il turn order qua giù quindi anche qui ci dovete andare a mettere i colori per ricordarvi che è primo che è secondo che è terzo e così via e fatta questa prima fase si vanno poi a tirare i dadi rossi che sono questi qua che questi sono privati e personali perché il combattimento alla fase di montage vedete è divisa in tre turni nel primo turno e nel secondo e anche appunto nel terzo si vanno a tirare dadi o fate un turno alla volta quindi un turno di un giocatore un turno di un altro un turno di un giocatore un turno di un altro andate a tirare questi dadi e con la caratteristica skill quindi banale dirvi che se siete feriti avete perso uno di skill non ne avete più 4 ma ne avete 3 però vedete sopra c'è un simbolino che ci dice che puoi tirare anche un dado verde se c'è la X vuol dire che è un dado verde qualsiasi cioè qualsiasi risultato esca e buono se c'è una pistola accanto vuol dire che qualsiasi risultato che uscirà varrà comunque al massimo come colpo dalla distanza questo invece vuol dire colpo da corpo a corpo o dalla distanza qualsiasi risultato che esca quindi all'inizio tirate solo i dadi rossi quando iniziate a scalare con le ferite vi dà anche un dado verde che lo tirate in più andate a tirare il vostro dado andate a tirare i vostri dadi e guardate i risultati che escono i risultati possono essere molto semplici attacco dalla distanza ah c'è scusate una ferita singola a distanza una ferita singola in corpo a corpo un movimento perché poi vi dovete anche muovere per la mappa due ferite in corpo a corpo e azione per i nemici quindi tutti quanti i dadi sono per voi questo è l'azione dei nemici se nel vostro tiro di dado non esce nessuna faccina nera vuol dire che i nemici per quel turno non vi attaccano quindi avete fatto la vostra mossa talmente organizzata bene e veloce che non hanno avuto il tempo di ribellarsi e di fare un contrattacco queste zone tratteggiate sono zone collegate come anche in zombie sai in giochi del genere quindi una zona collegata vuol dire che c'è visuale lui se avesse un'arma da fuoco potrebbe e ovviamente deve avere anche un valore sul dado con una pistola potrebbe attaccare loro qua dentro perché è una zona adiacente ma non potrebbe attaccare questa perché fra la sua zona di partenza e la zona qua giù vedete c'è una stanza nel mezzo quindi per andare qua giù dovrà passare prima di qui e andare qua e i movimenti li fate per ovviamente i movimenti che vi arrivano che trovate appunto sui dadi che vi sono venuti fuori poi c'è la zona dell'upgrade qua giù in fondo e gli upgrade sono questi qua su sono ability upgrade che sono questi qua e che vanno ovviamente qua giù in fondo l'abilità che potete avere e poi ci sono gli item upgrade più l'abilità del personaggio vedete ogni personaggio ha una sua abilità particolare il suo ad esempio che aggiunge sempre una in corpo a corpo perché è il classico personaggio alla hotline Miami che non ha nemmeno armi da corpo a corpo gli piace andare a pugni ti sfonda di cazzotti lei e in questi 4 upgrade voi li potete comprare da qui all'inizio del turno nel montage e metterli qua giù però li dovete pagare nel costo che c'è sotto in fulmini più costano più sono forti i fulmini come si guadagnano si guadagnano con i dadi che vi ho detto prima di tirare quelli tutti insieme per un pool comune vedete ci sono dei risultati sopra i cuori vi potete curare quindi per curarvi guardate sulla scheda il costo e ci dice per curare una ferita rossa che è una ferita lieve dovete usare tre cuori quindi se ce l'avete bene se no non vi curate per curarne una nera che le ferite sono rosse lievi nere le dovete mettere sempre da sinistra verso destra sono quelle più difficili da togliere perché costano più punti banale dirvi che quando una delle righe è piena il vostro personaggio è fuori combattimento si potrà riprendere al turno successivo perché non morirete però avete perso la possibilità di fare punti la stella che appunto laggiù dove i cuori sono quelli che vi servono per curarvi la stella è un bonus che potete avere a una delle carte che mettete in gioco o delle azioni che potete andare a fare lo vi faccio vedere questo è un movimento quindi vi da un movimento in più rispetto agli sprint che vi potrebbero uscire sul dado un'azione di ricognizione che è quella che vi ho detto all'inizio semplicemente prendete il cannocchiale e lo mettete su un boss o più boss per andare a spiare alla zona anche perché voi avete queste carte qua giù che vi ho fatto dall'inizio che sono le carte wronging quindi è inutile andare nella zona dei motociclisti se ad ammazzare a picchiare quella gente si faccio qualche punto ma se magari il mio obiettivo è la yakuza cosa sono andato a fa ammazzare loro si ho fatto punti ma ne farò molti meno rispetto che andare a ammazzare il mio vero e proprio bersaglio ci sono anche tutti quanti i mazzi eccolo vi faccio vedere ve li metto qua su quindi nella prima fase dovete andare a disporre questi dadi poi dovete andare a disporre le carte azione di ciascun personaggio che questo qui è il vostro mazzo e le mettete sempre coperte una sopra il 2 una sopra l'1 e una sopra lo 0 poi quando arriva la vostra fase ovviamente nei vari turni perché vi ho detto ci sono tre turni di combattimento nel primo turno andate a girare questa qua e andate a leggere quello che dice praticamente questa carta ci regala due al movimento vedete sempre diviso e un fulmine un fulmine può essere usato come vi ho detto prima per l'acquisto di una di queste cose qua giù per l'acquisto di un'abilità o un miglioramento perché io potrei dire ok ho due fulmini lo spendo per comprare questo upgrade qui che si chiama headshot che mi dice aggiungi sempre un risultato di pistola tu ti tiri alla distanza nel turno 2 tirerete fuori questo e nel turno 2 tirerete fuori quest'altro dovete fare la somma dei dadi e poi se non siete feriti andare a tirare i vostri dadi rossi perché i combattimenti si fanno sempre con le skill ricordate che ogni turno non sono cumulativi ogni turno avete il bonus dato da questo e da questo ad esempio in questo turno qui ci si cura questo turno qui ti darebbe un esame col cannocchiale che era forse meglio metterlo all'inizio al primo in più queste stelle che sono sotto sono dei rafforzativi anche quando escono sul dado bianco sono dei rafforzativi all'azione che c'è sopra quindi in questo caso io non avrei un fulmine perché un fulmine me lo dà la carta però questo mi ci dà un bonus di più 2 quindi avrei 3 fulmini quindi questa che costava 2 la potevo prendere e magari prendevo un upgrade per la pistola si vanno a tirare i dadi si guarda la prima azione cosa ci dà facciamo il primo turno secondo turno cosa ci dà facciamo il secondo turno si guardano i risultati che sono usciti fuori e poi si vanno ad attaccare gli scagnozzi che hanno sempre ogni carta scagnozzo vedete qua su ha sempre dei punti ferita e che tipo di truppa è sempre segnato sopra quindi qui voi vedete anche i punti ferita che ha perché in questo caso qui comunque è uno un po' più forte uno sgherro che sono quelli di colore nero di solito nella maggior parte dei casi hanno molti meno punti ferita quindi con questo che io ho qui cosa potrei fare vedete sono usciti due dadi arma da fuoco uno da corpo a corpo e il mio personaggio ha un bonus in corpo a corpo che fa un danno in più e è uscito uno sprint lo sprint vi concede di muovervi da una zona a un'altra senza essere pestato perché se no quando vi spostate da una zona a un'altra tutti quelli che sono nella zona vi fanno ovviamente un punto ferita uno per ognuno che c'è in più quelli con le pistole attenti soprattutto alla mafia perché vi possano attaccare anche in zone adiacenti quindi io ce l'ho una pistola si parto da qui la prima azione dico ok uso questi due dadi per ammazzarne uno perché gli sgherri hanno due punti ferita tolgo questi primi due e ammazzo lui quindi lui non c'è più l'ho rimosso e lo levo dal campo poi faccio l'azione di sprint entro qua dentro e uso questo dado che è questo qui vedete lo tolgo gli faccio un punto ferita ne servirebbero due però io ho la mia abilità particolare quindi ammazzo anche il secondo finisce il primo round sono usciti i dadi con le facce nere? no se fosse uscito anche soltanto uno o più ma ne basta uno di dado con questa faccia voleva dire che attaccavano anche i nemici e ovviamente attaccavano tutti lui mi avrebbe attaccato lui mi avrebbe attaccato e il boss se aveva un'arma da distanza mi avrebbe attaccato mi avrebbe attaccato nel caso fossero stati da corpo a corpo perché lui non mi può attaccare in corpo a corpo con la pistola sono sgherri dalla distanza però questi avrebbero potuto fare il loro attacco arriva il secondo turno si ritirano i dadi rossi un'altra volta si riguarda cosa è uscito insomma io ho tre turni con tutto quello che ho montato qua sopra che non sono cumulativi e tutte le armi che mi sono comprato o le abilità che ho messo per farli fuori tutti sempre tenendo conto che per ogni ferita che subisco al mind prendo meno punti partita alla fine quindi perdo punti quando vedete un valore con una S vuol dire che quel dado o quei dadi che non hanno colpito li potete ritirare i cosi verdi mi vengono incontro che sono i dadi verdi questi qua giù e sotto le ferite alla vita quando arrivano a zero sono fuori combattimento ma qualsiasi cosa anche se il livello di skill vi arriva broken siete fuori dal combattimento anche perché non potete più combattere quindi dovrete perdere un turno perdere possibilità di fare punti per riguadagnare appunto punti ferita sempre che vi escano anche qui abilità varie e dadi vari nel pool in comune con i cuori e vado avanti nella mia partita ogni volta che qua giù sugli upgrade qualcosa viene tolto dovete riandarlo a sostituire con dei nuovi ovviamente qua giù la zona deve essere sempre ben rifornita per tutti gli altri giocatori all'inizio del turno ciascun giocatore gioca tre carte vendetta che sono diversificate anche qui per i clan comunque vedete che più ne avete dello stesso tipo se io ad esempio di questo l'imposcar ne ho più di una vedete che la prima mi darà una volta ucciso questo personaggio qui mi darà oltre alle ferite sotto che le dovete sempre prendere però mi darà due punti vittoria se ce ne avessi due quattro se ne avessi tre cinque in più se riuscite ma solo se riuscite a ripulire tutto il covo prendete anche i punti qua giù quindi calcolate i punti degli sgherri i punti del boss che ce l'avete segnato sulla carta e i punti di qua giù e andate avanti nel tracciato quando arrivate a 30 ripartite da zero ragazzi bene o male il gioco è qui ovviamente ci sarebbero tantissime altre cose da farvi vedere perché poi ve l'ho detto ogni personaggio ha il suo mazzo ogni personaggio ha i suoi dadi ogni personaggio ha anche il suo montage la sua fase di montage particolarizzata però il gioco è chi vi ha fatto il torto e poi i vari montage da fare e poi vedete the end si arriva alla fine del gioco il gioco finisce dopo un tot di turni decisi ovviamente anche dalla partita e in più il gioco finisce quando non quando un giocatore arriva a 30 punti perché si rinizia però se ovviamente tutti i covi sono stati ripuliti la partita finisce è un gioco molto adrenalinico e mi piace molto per il fatto che te con i dadi che tiri e quello che ti è uscito e quello che magari puoi aggiornare e ritirare e i montage che ti sei messo qua su e l'abilità sotto sai tutti quanti i valori che hai e con quei valori che hai devi ripulire il covo in tre turni se no a parte che ti ammazzano di botte ma hai fallito la tua missione non ce l'hai fatta a vendicarti allora preciso subito anzi inizio subito col dire che non è un gioco per tutti occhio è un gioco secondo me che può far divertire chiunque se messo al giusto tavolino però ha delle regole un po' particolari delle meccaniche un po' particolari qui ad esempio i dadi non è classico gioco si tira una dadi e si guarda il risultato immediato ma i dadi li tiri e poi te li metti da parte e sai come utilizzare dopo ed è una cosa che a me personalmente piace molto di più rispetto a giochi dove si diventiranno valangate di dadi perché qui magari se ti escono due dadi di colpito di arma da fuoco e uno di movimento sprint e uno di attacco in corpo a corpo te con questi quattro dadi che c'hai e ce li fai tutta la tua vendetta quindi se magari sei nella stessa stanza con della gente in corpo a corpo all'arma bianca quei due risultati che c'hai almeno che tu non li possa convertire però quei due risultati che c'hai di fuoco a distanza quindi azioni di attacco a distanza non te ne fai di niente perché sei in corpo a corpo non puoi tirar fuori la pistola mentre un tizio ti scazzotta quindi comunque è un gioco bello che devi avere appucchiato le risorse è un gioco molto logistico e devi calcolare al millimetro tutti quanti gli spostamenti per come li vuoi fare e il dado ti deve dare manforte non è un gioco per tutti perché c'è da tenere sotto controllo molte cose e poi ovviamente ti deve anche piacere il tema a me per me un film come Old Boy è un capolavoro uno dei miei videogiochi preferiti indie usciti su Steam per PC è Hotline Miami c'ho l'1 e il 2 l'avrò finito 50 volte ciascuno però è un tipo di gioco molto violento che ti deve piacere sicuramente non è uno zombie side dove ti arrivano valangate di nemici addosso e te ti ridadi ti ridare e l'ammazzi no qui devi precisare prima devi organizzare prima la tua giusta vendetta e poi portarla a compimento quindi è un gioco che può far divertire tutti non complicato complesso però di sicuro e è un gioco però che prima bisogna vedere se il tema ti piace però se vi piacciono film o videogiochi mi calcita andate sicuri se gli devo dare un voto assolutamente gli do un 8 su 10 meritatissimo veramente una figata assurda e onestamente detto proprio sinceramente non ci avrei inserito niente in più perché a volte mi sarebbe piaciuto vederci questo 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 no quello che c'ha basta avanza avrei detto magari qualche miniatura in più ma nemmeno perché ce n'è 80 quindi è veramente uno spettacolo assurdo ed è il gioco di Hotline Miami quindi mi garba da morire 8 su 10 meritatissimo vi ricordo che se lo volete ordinare primo link in descrizione link in sovrimpressione double game discount ai prezzi migliori sul mercato e potete pagare anche giochi a rate quindi se non li volete pagare tutti insieme li potete pagare in 3 o più rate primo link in descrizione dove acquistarlo e tutti quanti i nostri social a seguire Vengeance della Mighty Boards fatemi sapere cosa ne pensate per me ragazzi è una figata veramente bellissimo bellissimo ciao alla prossima